Ah, vabbè, se le canta e se le suona da sole. Rammollito, continua a donare un altro beat incredibile. Ci tiene alla leaderboard, ma sappi che non aveva donato nessun altro, quindi non ti preoccupare. Attenzione. Oh, merda. Iniziamo a cagare ovuli. Come si fa all'aeroporto di Malpensa, di solito. Pam, 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 pam. Presa! Tacchete! Ragazzi, consiglio numero uno. Quando non sapete che fare in mischia, usate le prese. Sono veramente, veramente sottovalutate, comunque. Pam. Perché parabasso al buon Davix? Riesco a togliere la barra? Sì, incredibile! Woo, 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 woo! Pam, 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 pam. Un, due, tre, quattro. Un, due, tre, quattro. Se ho fatto bene i calcoli dovrebbe entrare in combo questo. Yes! E ora gli facciamo un bel flanking. Ah, l'avevo già usato! Dovrebbe essere molto. Ok. Ho sbagliato. Purtroppo adesso ho un ottimo PC, ma la connessione è rimasta quella dell'hotspot. Cazzo. Ma perché avremmo potuto fare i training? Ok. Ok. Se tappiamo un Madan. Ragazzi! 30k di danni! Ma di che cazzo stiamo parlando? Su! Clippate! Cosa cazzo state aspettando? Toglietevi le mani dall'uccello e fatemi sta cazzo di clip. Ah, non sbaglio un perfect smash. Il giocatore più forte della storia è mani basse. Attenzione, ho sentito un suono incredibile. Soul di kick! Ah! Non ho visto niente! Mi tira il Madan? Ops! A me il controattacco zeta! Oh! Soul di king! Grazie mille per il follow! Sto cercando di capire come potrei fare. Allora, facciamo così. Oh! Ma fottuto! Accidenti! Pam pam! Bene! Ora, Davix, aggiorno un attimo i punteggi e recupero qualche messaggino in chat. Rimani in attesa, molto gentile da parte tua. Ti ringrazio in anticipo. Redez, basta leccare il culo. Ok, carichiamo un po' d'aura. Bravo! Dovevi essere giusto un po' più scattante qui a rispondere all'intrusione. A me piace molto, per esempio, adottare questa strategia, ovvero fermarmi e tirare la super, perché come vedi mi dà un blocco che noi chiamiamo amichevolmente super on block. E... Ciò che fa è praticamente indurti a parare affinché io possa fare flanking. È un ottimo modo di usare la super e sprecare tanta aura. Sappiamo bene favorire molto i nostri controattacchi Z. Ora qui in questa situazione contro Trunks prendi tanti danni, quindi in realtà quello che ti converrebbe fare sarebbe un doppio L1 all'inizio della combo. Bella schivata. Non abbassare mai la guardia sugli impeti schivati, sia che sia tu a schivarli, sia che te li schivino. Perché in realtà si è in situazione... Oh, merda! Si è in situazione neutrale. E quindi io posso tirare benissimo. Ma non è... non parliamo di punish o robe varie. Qui per esempio avrei potuto fare tanta roba molto più attiva e sono muerto. Ah 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 ah! Doppio teleport. Qua in realtà avevi avuto un'idea non troppo male. Ho sbagliato io. Non è vero. Ho premuto triangolo solo perché volevo creare un'apertura. Ora, gameplay con Madan. Dovresti cercare di tenerti le due barre e non indurti a prendere troppi rischi. A me con Madan piace fare questo setup, ovvero fermarmi in un punto qualunque della combo, premere una diagonale... Ma che merdato ho combinato. Comunque il setup che ti dicevo con Madan è fermarmi, prendere una diagonale e tirare il Madan. Perché è molto molto forte. Se l'avversario para, molto difficile, però posso eseguire anche un flanking. Per esempio quel martello che io ho eseguito lì non l'avrei mai voluto eseguire. Da questa partita voglio anche che noti come utilizzo i cambi. Ovvero che io molto spesso uso il cambio in maniera offensiva. Riesco a trovare quelle aperture all'interno delle combo, entro le quali posso fare entrare un nuovo PG con sicuramente molta più firepower del PG attualmente in campo. Ecco, onda esplosiva super non ti conviene principalmente perché anche se io non recupero l'onda esplosiva, come è successo, la super la posso sempre mandare a vuoto, qualunque super sia. Bravo, ottimo contro teleport. Bravo. Attento perché hai fatto una combo di spalle di fronte. Lì l'errore tuo è stato fare calcivolanti ascending key. Calcivolanti di fronte non sono sbagliati, è sbagliato quel tipo di follow up. Perché mi dà tante possibilità. Come hai visto io ti ho riflettuto i key blast in faccia. E ho riso con Gaudio, insomma. Bene, allora facciamo tutti quanti il nostro più caloroso GG a Davix. Io nella seconda partita mi sono concentrato nel darti qualche consiglio. Un altro motivo, se vogliamo l'unico vero motivo per cui io prendo i tuoi stessi PG e prendo gli stessi PG in genere quando gioco con gente nuova, è affinché tu posta poi rivederti le partite e copiare alcune delle idee che tu puoi vedere dal mio di gameplay. Quindi sentiti proprio libero di continuare ad accedere a questo video. Questo video, ma che sto dicendo? Questo video per le prossime due settimane penso che lo caricherò separatamente anche su YouTube e fai in modo di copiare inizialmente le mie idee perché iniziare copiando in realtà in questo gioco aiuta più che capire i concetti e poi provare a elaborarli con la propria mente perché copiando tu hai immediatamente qualcosa fra le mani qualcosa da fare poi effettivamente in partita e man mano che le fai inizi quasi automaticamente a comprendere il perché.